bella a tutti ragazzi eccoci qui in un nuovo video anche questo sempre sui disegni incredibile ormai è diventata la nostra punta di diamante noi stiamo registrando tutti di seguito quindi non sappiamo cosa ne state pensando ma che non sappiamo disegnare vabbè ragazzi l'importante è che noi ci divertiamo portiamo contenuti e voi vi disiscrivete allora oggi andremo a fare abbiamo cinque minuti e dobbiamo andare a disegnare un personaggio totalmente inventato proprio ci dobbiamo inventare noi e quindi noi pensiamo di fare tipo un personaggio diventato tipo una fusione da due persone ci conosciamo perché se no a caso lo posi non abbia manco senso e quindi abbiamo deciso quattro personaggi che verranno uniti uniti a due a due e per un totale di 5 minuti a disegno come abbiamo fatto nel primo video e sarà un'impresa ardua perché se avete visto l'altro video ci arrivavamo a pelo i cinque minuti a copiare un disegno adesso dovremmo fonderli quindi si alza sempre di più l'asticella e soprattutto il video più divertente che è stato quello della scorsa volta dei personaggi fatti senza cioè al ricordo ragazzi pura poesia andatele a vedere perché bellissimo quindi come primo disegno abbiamo deciso di unire gli uffi con nami una bella fusione sui due sono normali mi vedrete con la fusione l'abbiamo trovata in un po' di cose già fatte però dove sta il bello noi dobbiamo fonderli ok da ora abbiamo cinque minuti 3 2 1 l'abbiamo trovata in un po' di cose già fatte l'abbiamo trovata in un po' di cose già fatte nooo tu citti tu citti non si deve cancellare nooo 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 tu citti non si deve cancellare con freezer nito a cell. Che diciamo che sulla carta potrebbe essere abbastanza facile perché cell è tutto una cosa. Cell è quello. Puoi fare praticamente freezer dentro l'armatura di cell. Sono... Quando si si vedono torri. Comunque vai! Il voto dell'artista un attimo. C'è qualcosa che non piace in questa cosa. Vi offrogli due spalle no... Due spalle no... che hai fatto? un'apparazione l'avere visto in giro io ho finito c'è una seconda più o meno non ho le mani ottimo ok i disegni sono stati ultimati e completati qua ci metto uno così costano i disegni della fusione anche questa volta però mi sono piaciuto di tutto rispetto a questo mi sono venuti un po' meglio perchè proprio mi è piaciuto di più ma perchè anche hanno caratteristiche simili e sono sono simili sono simili e niente dovevi scordare sempre di votare qual è il più bello votate votate votare le schede vabbè qua che mi facciamo vedere che è in 0p non lo vedete vabbè 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 dove si disegna trasformato quindi vi ricordiamo di passare anche dai nostri altri video andare a vedere gli altri video del disegno e comunque anche altri video che abbiamo caricato perchè non ci siamo da poco su youtube quindi ci sono anche un bel po' di video sul nostro canale e poi vi ricordiamo anche di passare dalla nostra pagina facebook dal nostro sito e alla prossima ciao